Noi diciamo sì alla ricostruzione dell'Italia partendo dagli incentivi delle piccole e piccolissime imprese intanto, ma soprattutto noi cerchiamo di fare, proponiamo per le famiglie, che sono la colonna portante del sistema, innanzitutto il reddito di maternità. Il reddito di maternità, noi l'abbiamo già depositato in Cassazione, è uscito in gazzetto ufficiale, è per noi un grosso incentivo per fare figli e combattere la denatalità. Si tratta di dare 1000 euro al mese ad ogni donna, sia essa singola o sposata, alla nascita del bambino, fino al compimento dell'ottavo anno del bambino. Il reddito di cittadinanza, parlo anche di numeri, ci costa 12 miliardi, il reddito di maternità costerebbe 3 miliardi l'anno. Le quote devono assolutamente venire tolte sia per l'asilo nido che per la scuola materna. Questo significa il primo aiuto, tutela del lavoratore perché spesso a pagarne il prezzo, che vogliamo o no, è la mamma in questo caso. Tutela della famiglia oggi significa anche tutelare le situazioni di padri e madri separati perché purtroppo diventa un costo, diventa un raddoppiare le famiglie, poi se oggi ci aggiungiamo con l'aggiunta di costi, di energie, l'argomento del giorno, significa veramente portare al collasso la famiglia, questo sostegno. Mi permetto anche di aggiungere in questo momento di persone fragili, nel senso fragili a 360 gradi perché partiamo dalle disabilità e lì bisogna sicuramente aumentare l'indennità, l'assegno perché non è sostenibile un disabile con 280 euro al mese. Grazie. Grazie. Grazie.